In avanti ancora, Caccetta in avanti, ma è bravissimo Furnari a capire le intenzioni. Parte invece Mistretta, pallone, insomma, centrale. Calcio d'angolo sempre battuto da Sekum, è lui che si occupa dei calci da fermo, quindi Sekum, calibratissimo, è molto pericoloso. Lupo, idrocampista di mestiere, ancora Lupo, tenta una battuta, Lupo, Giardina, Lupo in avanti, verso Giordano. Giordano, bel pallone di Giordano, ma pallone lungo, disattenzione, uno svarione. E adesso pallone pericolosissimo, Mansur, ipnotizzato dal bravissimo Furnari. Adesso Semenzin, pallone in avanti, cross, Furnari capisce tutto. Garufo, pallone in avanti per Semenzin. Semenzin, e gol, e gol, ha segnato Pavicic, una deviazione. Si fanno sentire i tifosi dell'Agragas, venuti qui a Mazzara del Vallo per seguire la propria squadra. Adesso ancora Mansur, pallone in avanti per Semenzin che non aggancia. Delle maglie bianco-celeste, pallone per Mistretta, pallone velenosissimo. Ancora Galfano, bravo Galfano, pallone in aria. Buono l'aggancio di Mistretta, ma viene chiuso da Baio. Benimegna, è il giovane russo, adesso testa, pallone in avanti. E pallone che per poco non sorprende, Eleseciai. Garufo, pallone in avanti. E un tiro che però trova pronto Furnari. Adesso Giordano, pallone buono, in avanti per il giovane russo che stoppa. E in avanti, bravissimo. Distretta, a botta sicura, testa. Ma è l'Agragas che riesce a respingere. L'arbitro fischia adesso la fine del primo tempo. Poi è stato munito, adesso siamo attenti, un Semenzin. E ancora l'agragas, ma Giordano, ancora avanti. Giordano, pallone in avanti per... E' gol, è gol, è gol, gol, gol. Benimegna, Benimegna, Benimegna. Il contropiede dell'Agragas con Pavicic. Pallone per Mansur, pallone per Mansur. Pallone in avanti, Mansur. Pallone pericolosissimo in aria. Da... Buono, questo pallone. Russo, Russo punta l'uomo. Crossi di Russo. Ancora Lupo. Galfano, pallone al centro. Galfano e Di Giuseppe. Campolungo. Vediamo le Semenzin. Semenzin per Mansur. Però, insomma, funziona ancora pericoloso. Garufo. Adesso è l'agragas che tenta il pallone in avanti. Con giocatori. Adesso Giordano prende, perde, pallone Giordano. Pallone Giordano, Vitelli. Vitelli e fallisce il gol Vitelli. Per Semenzin quando è entrato in aria. Attenzione! Di questo secondo tempo la partita. Pallone in aria. Lupo a respingere. Ancora un respinta. Furnari. Porta vuota e salvaggio a me. Palla in aria. Mischia in aria. E un colpo ricevuto da Benivenia, crediamo. Volta. Pallone in avanti. Esce Furnari. Rivolzione. Vediamo. Pallone direttamente. Arbitro proprio in questo istante decreta la fine delle ostilità. Quindi finisce 1-1. Mazzarese-agragas.